Buongiorno, pronti? Certo. Passeggiatino. Dopo due minuti di vivere, un po' di notizia e il party. Da moto e scalambri è tutto. Sì, vediamo tra sei ore. Con delle grasse novità questo. Grazie, grasse, 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 grasse novità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Eccoci qua. Salve. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.